Con la proposta del Governo di riforma del titolo quinto della Costituzione, alcune materie come il Governo del territorio ritornerebbero alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Lei è d'accordo con questa proposta oppure ritiene necessario mantenere la potestà legislativa concorrente delle Regioni? Grazie. Domanda ovviamente molto interessante, molto coinvolgente e anche molto complicata per il tipo di risposte che si possono dare. Anche perché la nostra dottrina, la giurisprudenza, ci hanno abituati a ragionare sull'onda delle scelte legislative circa il fatto che il territorio sarebbe, per così dire, spacchettato in tre ordini di problemi. L'ambiente in senso stretto, il paesaggio e il Governo del territorio. L'ambiente, soprattutto l'ambiente in senso naturalistico, il paesaggio allude e si riferisce in qualche modo ai valori storici e artistici del Paese, articolo 9 della Costituzione, e il territorio sarebbe l'urbanistica, cioè il disegno del territorio stesso. È ovvio che tutto ciò presenta margini di finzione e di ambiguità, di evidenza che direi non deve essere neppure dimostrata. Dopodiché l'assetto costituzionale attuale prevede una competenza legislativa esclusiva dello Stato nel campo dell'ambiente, una competenza legislativa esclusiva dello Stato nel campo del paesaggio e dei beni culturali, una competenza concorrente fra Stato e Regioni nell'ambito, nel quadro del Governo del territorio, intesa in questo caso Governo del territorio come edilizia comprensiva dell'urbanistica. Se il disegno, l'intento del legislatore fosse quello di trasferire al centro ogni competenza legislativa in materia di Governo del territorio, sarebbe probabilmente un errore, in quanto che, a mio avviso, mentre è fondamentale che resti in capo allo Stato la legislazione in campo ambientale, con tutte le variazioni e chiose che la Corte Costituzionale ha poi aggiunto. L'ambiente sarebbe più un valore che una materia, l'ambiente trasversalmente incardinerebbe le competenze sia dello Stato che delle Regioni. Tutto ciò va bene, ma diciamo che siccome si tratta di discipline che fanno applicazione di normative transnazionali, internazionali e europee, è ovvio che il referente minimo è lo Stato di questi problemi. Ma sul fatto che si decida come disciplinare la struttura di un piano regolatore da parte dello Stato, piuttosto che delle Regioni, questo mi sembrerebbe un passo indietro e abbastanza poco in sintonia rispetto al Comune Sentire. Quindi io direi che per quel che riguarda il governo del territorio, bene farebbe il governo pur riformando in profondità il titolo quinto della parte seconda della Costituzione. Basti ricordare che la nuova Costituzione nel 2001 si prefiggeva di sedare i conflitti fra lo Stato e le Regioni e che sulla base dei dati disponibili qualche anno dopo il contenzioso era aumentato nel 350%. Quindi non c'è stato alcun effetto di pacificazione. Ma certamente per quel che riguarda il governo del territorio in senso stretto mi sembrerebbe abbastanza logico e così fondato il mantenere l'attuale riparto con una competenza concorrente fra Stato e Regioni. Là dove invece si dovrebbe probabilmente riportare al centro ogni fondamentale competenza è relativamente alla materia dell'energia. La materia dell'energia, essendo di tipo strategico, essendo essa stessa di fonte il più delle volte transnazionale, è stata un'indubbia caduta di stile, un errore dell'intelligenza, quella che l'ha fatta dirottare su competenza concorrente fra Stato e Regioni. Mentre al contrario riportare al centro la competenza circa la produzione, somministrazione e distribuzione dell'energia delle grandi reti nazionali, evidentemente, perché per quelle che sono le reti di minore impatto capaci di dispacciare una minore energia termica e quindi elettrica fino a 159 megawatt termici, beh lì c'è dal 1977 una competenza di tipo regionale e quella la lascerei intatta perché sono le piccole centraline, ma le grandi reti nazionali mi sembra ovvio che debbano essere oggetto di una competenza legislativa centrale, nazionale.